Musica Ben ritrovati ad una nuova puntata di Linea Diretta, oggi insieme a noi c'è Stefania Fuchesato, Presidente della Fondazione Città della Speranza, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, Presidente, è doveroso raccontare un po' che cos'è la Fondazione Città della Speranza, come è nata, spiegarla proprio ai nostri telespettatori, perché forse non tutti conoscono e sanno la storia di questa fondazione che è davvero, davvero importante, diciamolo subito, importante per i bambini. Ed è proprio questo il titolo della nostra puntata, i bambini prima di tutto. Beh, sicuramente i bambini prima di tutto nella vita e nel cuore di ognuno di noi. La Fondazione Città della Speranza è nata il 16 dicembre 1994, per opera di un gruppo di imprenditori con in testa Franco Masello, il fondatore, che vedendo una necessità proprio a Padova di costruire un reparto di accoglienza per quanto riguarda bambini ricoverati con problemi di leucemie, forme tumorali, mancavano proprio di un riferimento concreto dove venire ospitati. Mi dicono che a quel tempo le terapie venissero fatte tanto nei corridoi, quanto addirittura qualcuno dice la chemioterapia seduti in macchina. Quindi sicuramente non un ambiente consono per ospitare bambini. È nata da un gruppo di imprenditori fondamentalmente vicentini, ma l'intervento è stato fatto a Padova perché oggi, come allora, era un centro di riferimento nazionale per quanto riguarda la cura delle leucemie. Tutt'oggi vengono diagnosticate tutte le leucemie in Italia su bambino qui a Padova. Quindi era importante avere un degno reparto di accoglienza. Quindi il primo intervento è stato proprio creare questa struttura per ospitare bambini presso l'azienda ospedaliera, quindi il reparto di accoglienza di oncoematologia pediatrica, un day hospital e successivamente anche un pronto soccorso pediatrico dedicato ai bambini. Sicuramente opere importanti che hanno dato dignità a chi doveva vivere e tuttora deve vivere un'esperienza così dura come quella della malattia. Quindi è stato proprio pensare a un'accoglienza e direi che chi sta tutt'oggi vivendo questa esperienza mi dice, mi raccontano anche i genitori, che comunque il bambino la vive volentieri perché c'è una grande salla giochi, ci sono quindi anche i volontari che poi fanno intrattenimento, quindi c'è William che fa lavorare i bambini con il legno, costruisce casette, fanno un sacco di attività. Abbiamo Maurizio, anche un pizzaiolo, campione medaglia d'argento nazionale delle pizzaioli che periodicamente viene in reparto, porta tutte le pagnottelle e si fa la pizza con i bambini, perché pensiamo che comunque il bambino sta vivendo una parte della sua vita, anche se la sta vivendo con la malattia, ma la vive in reparto. Quindi è un percorso più o meno lungo, tanto vale renderlo al meglio. oltre alla malattia, fagli vivere la quotidianità serena, quindi giochi, accoglienza, divertimento, che sicuramente rende meno pesante questo tipo di percorso. Quindi questo è stato proprio il primo intervento allora che appunto ha reso più facili le digenze. Chiaramente se pensiamo che quando ci troviamo ad avere in famiglia un bambino ammalato, il primo pensiero è che questo venga anche curato, quindi pensare all'accoglienza è importante, sicuramente migliorare i tassi di guarigione è fondamentale. E quindi ancora nel 99 si è pensato di iniziare ad investire proprio in ricerca per dire cerchiamo di migliorare i tassi di guarigione. Pensiamo che per dire negli anni 70, mi diceva il professor Zanesco, che è stato quello che ha portato proprio la cura delle leucemie su bambini in Italia, che quindi era primario allora del reparto di oncoematologia pediatrica, diceva proprio che non c'era un caso al mondo di guarigione su bambino colpito da leucemia. Quando siamo nati noi, quindi circa 20 anni fa, il tasso di guarigione era diventato il 30-40%, abbiamo continuato ad investire anche noi come centro ricerche, quindi sicuramente con altri centri che hanno fatto ricerca il tasso di guarigione oggi è confortante. Siamo arrivati a un 75-85% per la cura delle leucemie. Significa che una volta se ne salvavano 20 su 100 bambini, oggi sono 80. Un altro riferimento, ancora non è 100 però, pensiamo a questo, pensiamo a quanto bisogna ancora fare per fare in modo che si arrivi anche a 100. A proposito proprio di quanto c'è ancora da fare in campo, ci sono importanti progetti di ricerca proprio nella Fondazione Città della Speranza? Beh, sicuramente, nel 99 abbiamo iniziato a investire in ricerca, quindi con piccoli laboratori costruiti all'interno dell'azienda ospedaliera. Poi succedono delle cose nel percorso, forse non succedono a caso, è arrivata un'eredità importante nel 2004 da una contessa di Milano, contessa dei Claricini che era anche medico. Il marito era un ginecologo, lui già non c'era più. leggendo un articolo sul Corriere della Sera e Gian Antonio Stella, questa contessa decise di venire a visitare il nostro reparto, sicuramente perché aveva già pensato di destinare i suoi beni a noi. Dopo, tra l'altro, una breve malattia, lasciò i suoi beni, che tra beni mobili e immobili, quantificati in 4 milioni e mezzo di euro, da investire in ricerca. E da lì, quindi, è partita la nostra nuova mission di costruire proprio un centro ricerche importante dedicato all'ambito pediatrico. E da lì, quindi, abbiamo trovato il terreno che ci è stato donato all'interno della ZIP, zona industriale Padova, quindi dove c'è anche il CNR, 10.000 metri quadri di terreno donati, un progetto poi donato da Paolo Portoghesi, già anche il progetto piuttosto importante, 7-800 mila euro di progetto, poi si è partiti a costruire questa torre di ricerca, costruita in tre anni, in 1.050 giorni esattamente, quindi in tempi rapidi, sempre per il concetto che noi pensiamo che la malattia corre veloce, la ricerca deve correre ancora più veloce per anticipare, quindi ai migliorari tassi di guarigione. Quindi l'8 giugno 2012 abbiamo inaugurato a Padova il più grande centro ricerche d'Europa, 17.000 metri quadri, l'impegno economico di 32 milioni di euro, IVA compresa, che fondamentalmente se lo dividiamo per i metri quadri, significa tipo 1.900 euro al metro quadro, come un appartamento in città, per dire arredato e tutto, questo significa che tanta gente ha donato del lavoro, e comunque i costi sono stati molto contenuti, proprio per cercare di rendere al massimo, come anche metratura, come possibilità di spazio per i ricercatori. C'è ancora un mutuo aperto per i prossimi dieci anni, che comunque man mano stiamo pagando, proprio perché l'idea ad oggi è di far lavorare, come dicevo, il maggior numero possibile i ricercatori. Lo spazio è di 400, 450, ad oggi ne abbiamo 295, che sono ricercatori in parte dipendenti ospedalieri, in parte universitari, e in parte dipendenti diretti di Città della Speranza, ma la nostra mission si è amplificata, nel senso che non facciamo più solo ricerca in ambito oncoematologico-pediatrico, ma copriamo un po' la rete di tutte le patologie riguardanti l'età pediatrica, proprio perché spesso le patologie vanno di pari passo, e soprattutto avendo tanti gruppi all'interno che possono fare rete, fare ricerca assieme, i risultati si possono raggiungere in tempi molto più brevi, e questo chiaramente è confortante, pensando appunto che dobbiamo prima o poi arrivare anche a un 100%, almeno nelle leucemie, questo è il nostro sogno. Certo, ed è un sogno che abbiamo tutti. Tra i vostri progetti c'è anche uno che coinvolge i ragazzi delle scuole, piccoli o un po' meno piccoli. Sì, perché come dicevi all'inizio, i bambini prima di tutto, allora ci sono i bambini e poi dobbiamo pensare anche per formarli, sia il mondo del volontariato, perché pensiamo che tutto quello che è nato e sta crescendo e si sta sostenendo è proprio grazie al mondo del volontariato. E quindi abbiamo lanciato un progetto un paio di anni fa dal titolo Adotta un ricercatore dedicato alle scuole, dove i bambini, dico bambini ma si intendono anche i ragazzi, dalla prima elementare all'ultimo anno di scuola superiore, praticamente dovrebbero fare un'attività di sensibilizzazione, per raccolta fondi. è teorica, nel senso non è importante come e quanto. Mi viene in mente una classe elementare di Vicenza che ha raccolto 24 euro. Significa che ogni bambino ha messo un euro, ma l'importante per noi è che parta dai bambini, non siano dati dai genitori questi, proprio perché devono cominciare a capire che non ci sono solo loro, ma bisogna dare una mano spesso a chi non sta bene come loro e quindi deve affrontare un periodo più impegnativo. Fatto questo, i bambini hanno a disposizione un ricercatore che li seguirà nelle varie attività che verranno proposte all'interno proprio dell'Istituto di Ricerca Pediatrica. Allora, dividiamo di solito quando vengono questi bambini o ragazzi in tre gruppi, perché la partecipazione viene in mente solo a maggio, per dire ne abbiamo avuti 1.200 ragazzi che sono venuti proprio in visita, ma soprattutto a fare questa attività. Rimangono due o tre ore all'interno dell'Istituto, vengono divisi in tre gruppi, un gruppo sta con me e quindi gli spiego sia cos'è, come è nata Città della Speranza, cosa si fa, con parole adatte a secondo dell'età dei bambini. Abbiamo anche dei filmati da mostrare, poi vedranno un filmato sulla cellula per capire un po' cos'è anche questa cellula, visto che in questo centro si fa ricerca. Un secondo gruppo invece sta con un insegnante di chimica, una mia amica, che si presta sempre, Daniela, a dare una mano per queste attività e con il cartaceo, proprio tipo origami, fanno il DNA, quindi proprio iniziano materialmente a costruire il DNA. Un terzo gruppo invece va in laboratorio e lì ci sono dei ricercatori che a seconda dell'età, quando sono piccoli, non so, i più piccoli degli elementari, hanno costruito l'atomo con i palloncini per capire come possono legarsi gli atomi. Quelli un po' più grandi estraggono il DNA dalla frutta, quindi dal kiwi piuttosto che dalla banana, è un'esperienza bellissima, perché all'inizio i bambini, solo per tagliare la banana, essendo in laboratorio, si sentono impacciati come fosse un'attività veramente diversa dalla quotidianità. Dopodiché fanno quindi questo percorso di estrazione DNA e poi chiaramente i tre gruppi si alternano. Mentre i ragazzi più grandi, quindi parliamo scuola superiore, ultimi anni di scuola superiore, fanno una vera e propria attività in laboratorio con DNA e sicuramente trovano un orientamento magari anche per i futuri studi universitari o comunque hanno una formazione, si fanno una formazione che sicuramente completa maggiormente anche il loro percorso studi e anche di sensibilizzazione, vorrei dire. Lei prima quando ha parlato di Città della Speranza ha nominato alcune figure che si mettono a disposizione, magari Maurizio con la pizza, insomma altre figure. Queste figure sono molto importanti però che è proprio grazie a loro oltre naturalmente ai ricercatori ma lo sappiamo è il loro lavoro. C'è anche bisogno di queste persone che mettano a disposizione la loro conoscenza per dare un sorriso a questi bambini e poi per aiutare sicuramente anche le loro famiglie. Allora sì, sicuramente. Ci sono delle figure costanti quindi presenti in azienda ospedaliera, soprattutto in reparto che devo sempre ringraziare, il gruppo che siamo diventati proprio amici ormai di Arrivano i nostri che è un nome che hanno scelto i bambini tra l'altro che sono queste figure presenti un po' per sostenere i genitori e un po' per fare giocare i bambini, disegnare, divertire, raccontare storie. Dopodiché ci sono delle sporadiche delle figure che entrano tipo io ho un'amica che ogni tanto mi porta Peppa Pig in reparto ad esempio Mascia Orso adesso fra pochi giorni avremo i Looney Tunes che vengono in reparto non posso dire il giorno esatto perché i bambini vanno in fibrillazione. Questo è un gruppo di cinque personaggi che abbiamo Bugs Bunny piuttosto che Titti che per la prima volta arrivano in Italia quindi arrivano proprio i personaggi originali per i bambini è veramente emozionante infatti ricordo anche le altre volte mi ricordo un'infermiera che ha detto grazie perché avete portato veramente un sorriso oggi perché sono dei momenti che chiaramente ci si perde un po' il coraggio dopo rinasce e la speranza anche rinasce però ci sono dei momenti in cui c'è bisogno anche di figure così esterne che portino sta gioia dopo periodicamente arriva anche un ragazzo che fa le bolle di sapone giganti quelle gigantesche allora i bambini possono vederli dalle finestre quindi ci sono queste varie attività che come dicevo la malattia è anche un percorso vita cioè sta vivendo anche il bambino finché è malato quindi è un percorso anche abbastanza lungo e quindi può anche gioire di tanti momenti e quindi dire non ho perso le esperienze che potrei fare se fossi a casa ma lo sto vivendo magari in un mondo diverso un mondo protetto in un mondo con tanti che vivono anche la mia malattia ma sto vivendo la vita in un modo importante credo questo sia veramente significativo per i bambini ma anche per i genitori a volte i bambini dimostrano di avere una forza in più rispetto agli adulti forse a volte in alcuni casi sono proprio loro a dare forza ai genitori e familiari magari anche una carica in più agli stessi medici ma assolutamente cioè la scena tipica che vedi con i bambini piccoli uno due tre anni è che è una cosa che noi adulti non la penseremo mai ma i bambini sono creativi molto più di noi una cosa che mi ha sempre colpito è che il palo che serve per fare l'achemio che ha le rotelle i bambini per loro è una giostra quando i genitori li portano su e giù dei corridoi i bambini sono felici cioè voglio dire noi adulti viviamo se veniamo colpiti dalla malattia come un trauma il bambino riesce a tramutare in positivo e di conseguenza a dare forza mi è stato raccontato spesso che da bambini ragazzi adolescenti anche nei periodi più bui della malattia riescono a dire ai genitori no no ma dai dopo sto bene mamma ma no piangere che io sto bene quindi veramente è il bambino che dà la carica al genitore quindi credo sia sempre un mondo fantastico pieno di risorse che dobbiamo sostenere che dobbiamo aiutare a diventare adulto ed è per questo che dobbiamo investire in ricerca proprio perché è compito e dovere nostro tentare almeno di dare una possibilità a tutti i bambini di diventare adulti Presidente si avvicinano uno dei periodi più belli per i bambini ma un po' un po' per tutti il periodo del Natale e lei ha portato qui una cosa oggi che vuole farci vedere è arrivata ieri sera cioè una cosa sì che rende felici e rende dolce il nostro Natale ai bambini e ai grandi questo secondo me lo può rendere dolce veramente a tutti perché c'è qui dentro un panettone ed è una modalità per sostenere la ricerca cioè tante aziende in questo periodo iniziano a fare gli ordini natalizi a pensare ai gadget direi che far arrivare nelle case un panettone o un pandoro o un cesto natalizio che allo stesso tempo dà la possibilità di sostenere la ricerca e quindi di dare un futuro a tanti bambini in fin dei conti il Natale è nato per loro non è nato per noi per noi è nato quando eravamo bambini ma fondamentalmente è per i bambini il Natale quindi se vogliamo che diventi dei bambini cerchiamo magari di investire in questi gadget che poi diventano il futuro diventano la ricerca con il Natale noi sicuramente riusciamo a pagare parecchi ricercatori con quanto raccogliamo per cui direi che dire un pensiero dolce lo possiamo fare tutti se è un privato lo può trovare anche in prossimità al mese di dicembre o tramite la fondazione basta entrare nel sito Città della Speranza da metà novembre a pochi giorni prima di Natale ci sono anche i riferimenti di tutti i mercatini dove siamo presenti ma per quanto riguarda Padova di solito apriamo un piccolo punto dove si trovano i gadget a Limena presso il Toys che chi ha bambini conosce benissimo come centro giocattoli dove sia confezioniamo pacchetti sia ci sono tutti i gadget che danno possibilità proprio di far sostenere la ricerca ci sono tante persone che si dimostrano sensibili al sostegno della ricerca direi di sì sono quelle che di solito non ne sentiamo parlare nei telegiornali non ne sentiamo parlare nei giornali perché fa meno rumore ma c'è veramente un numero importante di persone che ogni giorno dedicano chi tempo chi denaro proprio per dare una mano per sostenere la ricerca ed è per questo che si fa strada faccio un esempio il 5 per 1000 a volte lo sottovalutiamo ma pensiamo che in Italia ci sono 35.000 associazioni che fanno domanda per il 5 per 1000 noi siamo 21esimi a livello nazionale con 44.000 persone che mettono proprio la loro crocetta nel 5 per 1000 e che quest'anno ci ha dato un risultato di 1.344.000 euro cioè significa pagare 34 ricercatori cioè una cosa importantissima e queste sono persone che credono nella ricerca credono nel volontariato e sicuramente sono anche le persone che quando vedono il banchetto fanno la piccola donazione la cassettina nei bar fanno la piccola donazione piuttosto che quelle che acquistano il panettone a Natale e quindi questo fa capire che c'è una bella parte di persone di società che veramente crede che oltre al proprio giardinetto si può pensare anche a quello degli altri per dare una mano a chi in un certo periodo è in difficoltà anche perché sappiamo bene che un ricercatore in particolare nel nostro paese non lo fa certo per un ritorno d'immagine un ritorno economico lo fa perché c'è una passione perché ha un obiettivo beh assolutamente sì perché chiaramente gli stipendi non sono importantissimi il nostro sogno e obiettivo di poter sicuramente pagare un po' più di ricercatori la cosa bella è che siamo riusciti a tenere in Italia ricercatori che stavano andando all'estero e addirittura portarne altri che già lavoravano all'estero è chiaro che dobbiamo come paese diventare anche noi un centro di eccellenza lo spazio c'è come dicevo l'istituto di ricerca pediatrico i ricercatori ci sono l'importante è fare in modo che tutti ad esempio abbiamo lanciato un progetto anche per gli imprenditori adesso contribuiscano per fare in modo che la ricerca si autoalimenti ad esempio abbiamo presentato due brevetti ad agosto e questa settimana si è inserita all'interno della torre una start up il coinvolgimento degli imprenditori prevede che partecipino per tre anni per sostenere progetti di ricerca legate fondamentalmente o a staminali nanotecnologia in modo da diventare poi con partecipi o di avere un'opzione sulle start up che possono nascere che queste start up danno sicuramente lavoro a dei ricercatori che magari finirebbero il loro percorso nei tre anni del progetto di ricerca ma possono diventare anche una nuova fonte economica anche per le aziende perché possono creare nuove possibilità quindi di sviluppare lavoro ecco parliamo un po' dei tassi di guarigione all'interno di Fondazione Città della Speranza come sono cambiati un po' negli anni beh come dicevo prima allora da un periodo buio dove non si vedeva il futuro cioè per dire una leucemia era proprio una una sentenza di morte più che una malattia a oggi che veramente fa sicuramente ben sperare come dicevo arriviamo all'85% significa che c'è stato un percorso di miglioramento di tassi di guarigione importantissimo però ricordiamoci 85% non è 100% cioè quel genitore che ha il bambino che non ce la fa significa che non vede futuro non vede una possibilità per cui bisogna investire cioè quando dicevo prima col 5 per 1000 34 ricercatori che lavorano in più sono 34 ricercatori che anticipano sicuramente i tempi di guarigione e quindi migliorano i tassi di guarigione di alcune soprattutto della leucemia e tumori solidi purtroppo hanno dei tassi di guarigione meno importanti rispetto alla leucemia cioè purtroppo sono ancora ostili come tipo di malattie però voglio dire anche quelli nel tempo abbiamo visto grossi miglioramenti importante dire che all'interno dell'istituto di ricerca abbiamo anche il gruppo del neuroblastoma il gruppo neuroblastoma tutti lo conosciamo lo abbiniamo immediatamente al Genova al Gaslini però è proprio il gruppo che ha cercato e ha chiesto di venire a lavorare da noi proprio perché è inserito in un ambito pediatrico che è una rete che sicuramente a livello europeo oggi è la prima rete esistente di ricerca in ambito pediatrico e a questo punto io mi vorrei agganciare per dire quando ha parlato appunto di chi ci sostiene del mondo del volontariato ci sostiene ma sicuramente ci sono anche le forze dell'ordine che sono diciamo dalle parti dei bambini sicuramente noi spesso le vediamo solo come forze che tengono cioè la sicurezza però fanno tantissime attività anche per sostenere l'infanzia ricordo che ero proprio qui l'8 aprile c'è stato un bellissimo concerto organizzato a favore di Città della Speranza dall'Arma dei Carabinieri e con diciamo in testa il generale Adenolfi che ringrazio particolarmente perché oltre ad avere organizzato questo concerto dell'8 aprile adesso sta organizzando uno bellissimo il 2 dicembre lo anticipo la notizia non è ancora conosciuta perché ne abbiamo parlato anche stamattina però non è ancora pubblica però credo sia bello sapere che proprio presso il Duomo di Padova verrà organizzato il 2 dicembre venerdì alle ore 6 e mezzo quindi a 18 e 30 un concerto a favore Città della Speranza e in quell'occasione verrà presentata anche un'agenda che stanno facendo per bambini con tutte un po' le norme di sicurezza della strada e all'interno contiene anche i disegni realizzati dai bambini del reparto che descrivono come il carabiniere il mio amico quindi ci sono dei disegni l'ho visto stamattina la bozza in anteprima e vi assicuro che è stupenda che infatti ho detto sarà per i bambini però ne voglio una anch'io perché veramente sono tutte le norme quotidiane come stare attenti come attraversare ma c'è uno spazio quindi dove il bambino può utilizzarlo anche per la scuola ma poi contiene questa parte direi anche dolce legata a questi bambini l'immagine che hanno i bambini dei carabinieri ed ho visto è bellissima perché ad esempio mi ricordo un disegno dove c'è al centro di un incrocio una macchina enorme dei carabinieri e le altre sono piccole questo significa proprio il tipo di immagine che hanno i bambini dei carabinieri oppure un altro disegno particolarmente toccante dove ci sono due mani che si incrociano una è la mano di un carabinieri e una è la mano della bambina questo fa proprio capire come vivono questa solidarietà che in questo momento sta smettendo l'arma dei carabinieri e ringrazio a nome di tutta la fondazione di Città della Speranza per la visibilità l'impegno e quindi anche il sostegno economico che ci stanno dando quanto bisogno c'è di volontari? allora i volontari diciamo è una categoria molto diffusa tra le persone adulte i nasciuti cominciano soprattutto le donne a donare il proprio tempo spesso manca la forma del volontariato giovanile ma non perché i giovani non vogliono farlo perché noi abbiamo proprio l'ultimo anno e mezzo organizzato un corso di formazione per i giovani per cominciare a dare una mano sia in reparto sia nelle attività di conoscenza di Città della Speranza sia all'interno dell'istituto di ricerca pediatrica quindi questi volontari sono dei giovani che stanno intraprendendo questo percorso importante che permette di affiancare la fondazione ma sui quali contiamo perché noi diciamo sempre serve anche a noi un ricambio noi siamo partiti come volontari ma il tempo sta diciamo un po' passando e abbiamo bisogno di nuovi giovani che si affianchino che cerchino di darci una mano e che facciano crescere quindi sviluppare Città della Speranza chi ha voglia ad esempio adesso mi viene in mente che appunto ci avviciniamo fra poco arriviamo a novembre di darci una mano con la fondazione chi per confezionare non so con medico pacchetti all'interno di Vicenza piuttosto che a Padova piuttosto siamo a Marcon con i pacchetti natalizi o chi ha voglia di fare altre attività di volontariato con Città della Speranza ci può contattare ad esempio entrando nel sito Città della Speranza dare il nominativo e noi li contatteremo perché sicuramente la fondazione cresce con tutti quelli che ci sposano per le varie iniziative con chi si affianca e con chi pensa che i bambini debbano essere proprio come si diceva all'inizio aiutati accompagnati per mano quindi benvenga chi ha voglia di darci una mano di contribuire a sostenere con noi la ricerca ma soprattutto far crescere la fondazione questo direi che è fondamentale per quello che riguarda Città della Speranza la ringrazio Presidente scusate mi ho avuto un colpo di tosse il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato allora abbiamo parlato di Città della Speranza la fondazione l'importanza che ha soprattutto la beneficenza e dunque i bambini prima di tutto assolutamente e rendiamo dolce il Natale anche con qualche gadget natalizio che arriva nelle case nelle tavole di Città della Speranza grazie a tutti e buona giornata grazie Presidente una buona giornata a tutti e agli spettatori arrivederci grazie a tutti